ragazzi buongiorno oggi è stata per noi una giornata meravigliosa abbiamo fatto una bellissima escursione a Sairi che è un paesetto vicino a dove abitiamo e pensate che la mattina abbiamo fatto un workshop di batik dove abbiamo imparato a dipingere le famosissime tele thailandesi dopo vi metterò qualche storia così vi farò vedere la difficoltà di dipingere queste tele io non immaginavo minimamente che ci fosse tutto quel procedimento da fare e dopo di che siamo andati a visitare dei templi il tempio bianco che avrete sicuramente già visto nelle mie storie e i templi nella grotta e poi ci siamo immersi in queste stradine nel nulla tra le palme i banani che emozione è proprio un posto magico Chupon e tutte le persone che che arrivano notano questa magia che non c'è da nessun'altra parte 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 non c'è davanti che fai